guarda e ascolta permesso? avanti ciao olivier buongiorno c'è uno studente nuovo olivier ti presento a lino piacere ascolta e ripeti permesso? avanti ciao olivier buongiorno c'è uno studente nuovo olivier ti presento a lino piacere piacere parla tu parla tu permesso? avanti ciao olivier buongiorno c'è uno studente nuovo olivier ti presento a lino piacere 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 guarda e ascolta che giorno è oggi? mercoledì? no è giovedì non lo so guarda il calendario cosa vuoi dire calendario? è questo oggi è giovedì 23 novembre ascolta e ripeti ascolta e ripeti è questo oggi è giovedì 23 novembre parla tu che giorno è oggi? mercoledì? no è giovedì non lo so guarda il calendario cosa vuoi dire calendario? è questo oggi è giovedì 23 novembre guarda e ascolta hai la matita? sì ce l'ho io non ce l'ho chi ha una matita? io bene grazie prego vuoi la gomma? sì grazie come si chiama questo? si chiama temperino come scusa? non ho capito temperino ascolta e ripeti hai la matita? sì ce l'ho io non ce l'ho io non ce l'ho chi ha una matita? io tiena grazie prego vuoi la gomma? vuoi la gomma? sì grazie come si chiama questo? come si chiama questo? come si chiama temperino? come scusa? non ho capito temperino? temperino temperino parla tu hai la matita? sì ce l'ho io non ce l'ho io non ce l'ho chi ha una matita? io tiena grazie prego vuoi la gomma? sì grazie come si chiama questo? si chiama temperino come scusa? non ho capito temperino guarda e ascolta fa caldo posso aprire la finestra? sì posso cancellare? no aspetta per favore scusa puoi chiudere la porta? certo puoi spegnere il cellulare? sì scusa ascolta e ripeti fa caldo posso aprire la finestra? sì posso cancellare? no aspetta per favore scusa puoi chiudere la porta? certo puoi spegnere il cellulare? sì scusa parla tu fa caldo fa caldo posso aprire la finestra? sì posso cancellare? sì no aspetta per favore scusa puoi spegnere il cellulare? certo puoi spegnere il cellulare? sì scusa grazie Grazie a tutti